Ciao a tutti, Washington ritiene che l'armistizio tra Ucraina e Russia ratificherà le acquisizioni territoriali della Russia, ha detto in onda Fox News, coordinatore delle comunicazioni strategiche del Consiglio di Sicurezza degli Stati Uniti, John Kirby. Si noti che la prossima settimana, a Mosca in visita ufficiale arriva il capo della Cina, Xi Jinping. In un incontro con il presidente russo, Vladimir Putin ha in programma di discutere un'agenda internazionale. Kirby ha suggerito che a seguito dell'incontro, i capi delle due potenze faranno una dichiarazione congiunta su una serie di questioni. In particolare, possono proporre un piano per risolvere la crisi ucraina. Se questo incontro porta a qualsiasi richiesta di armistizio, sarà inaccettabile, ha sottolineato il funzionario. Secondo lui, l'armistizio ratificherà l'adesione di nuove regioni alla Russia, darà ai militari russi l'opportunità di condurre una nuova offensiva in un momento conveniente. Amici, il canale ha bisogno della tua attenzione. Il supporto finanziario ci aiuterà molto. Dettagli nella descrizione. Metti mi piace e iscriviti al canale. Ciao a tutti!